Fallito il matrimonio con Omnicom, l'agenzia pubblicitaria francese Publicis ci riprova con un altro gruppo statunitense. Questa volta nel mirino sono finiti gli specialisti delle inserzioni online di Sapient. Obiettivo? Espandere la quota di profitto in arrivo dal mondo digitale e mettere un piede oltreoceano. L'acquisizione, per un valore di quasi 3 miliardi di euro, ha passato senza problemi il vaglio dei CDA delle due aziende. Più difficile sarà farla digerire agli analisti, secondo cui Sapient potrebbe essere già alla fine della sua fase ascendente, e agli azionisti di Publicis, i quali reclamano un ritorno di capitale.